good morning si qui sono diciamo le undici e mezza come dico in questi casi certo non proprio una mattina prestissimo una mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente oh semplicemente david lynch it's may 19 2022 and it's a wed it's a morning late morning in this moment it's here right now 18 86 Fahrenheit around 27 celsius and this means that it's that the day really 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 soft like in these days in this period and also over because it seems more a summer climate than spring climate d'altra parte andiamo verso giungo questo è anche normale as riguarda le video toots if i do it as always it's separate from this so eyes open if you are interested in the case anyway as he and you will just see from the window i think that this afternoon temperature potrebbe ancora salire di sicuro sullo stesso livello ma salire anche ovviamente non siamo di maghi su questo ma vedremo ma but really important thing with this atmosphere is that today we have today we have today we have those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine i think all along the way ovviamente all along the way qui meno ore rispetto a voi intendo soprattutto all america essendo un orario completamente diverso comunque questo trend se non erro è veramente il più lungo tutta la storia del mio report è una settimana se non erro che abbiamo il sole quindi penso che sia un record perdonate questa voce in sottofondo non dipende da me è il carro diciamo di un ambulante che vende la verdura napoletano che purtroppo gira ogni tanto qualche volta al mese ad ogni modo per cui ad ogni modo per cui si diceva questo so from the mythical window with the orange red blue blue water curtain and it's and finally from the mythical keyboard di amadi gx 640 ipg ipg 625 e great day in all the people follow the chat in the reports un saluto a tutti e dorso a yo piu le great breakfast il mio stomaco è brutto non so se lo sentite ma soprattutto spero che possiate consolarvi con la vostra bella relazione se il tempo e se essere brutto alle vostre parti rispetto a questo I'll see you in the video si fa il do it or to go